Siamo con Luperto che tra poco risponderà alle domande inviate dai giornalisti. Iniziamo appunto da queste domande. Iniziamo dalla prima, Sebastiano. Innanzitutto benvenuto nella famiglia Crotone. Grazie per il benvenuto. Dopo la tua esperienza a Napoli arrivi in una piazza calorosa dove il calcio è vissuto con passione. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a venire a Crotone e quali sono i tuoi principali obiettivi personali? Crotone è una grande piazza. Diciamo che il fulcro principale di questa trattativa è stato rappresentato dal mister perché ha spinto tanto e mi voleva tanto nella sua squadra. Spero di ripagare in campo questa fiducia e di dimostrare le mie qualità. A livello personale gli obiettivi? Sì, di dimostrare le mie qualità perché ho bisogno di continuità e di far vedere quanto valgo. Sei nel momento clou della maturazione calcistica con il Crotone per completare questo percorso? Sì, è la piazza giusta. Ho scelto Crotone appunto per questo, per avere più possibilità e cercare di dimostrare il mio valore. Conosci la Serie A? Le difficoltà del Crotone in questa categoria? La Serie A è un campionato duro e come squadra dobbiamo essere molto compatti e remare verso un unico obiettivo che è la salvezza. Sabato arriverà la Juve, sicuramente sarà un impegno difficile. Sì, la Juve è una grandissima squadra, una delle top al mondo, però diremo la nostra, ne sono convinto. Come stai fisicamente? Bene, bene, ho fatto tutta la preparazione, non ho saltato nessun allenamento, quindi bene, non ho i 93 minuti perché non ho mai giocato una partita intera nelle gambe, però sono fiducioso e mi sento bene. Da oggi sei pronto ad aggregarti ai tuoi compagni? Sì, finalmente è finita la quarantena e sono carico per questa avventura. Per chiudere un saluto ai tuoi nuovi tifosi. Mando un grande saluto a tutti i tifosi del Crotone con l'agurio che possa essere una stagione piena di soddisfazioni. Forza squali!